Registro dell'esperimento. Primo test sul soggetto. Sì, le case sono fatte per essere rotte. Non sono una barriera impenetrabile. Modificherò i prossimi test. Oh, è ancora vivo? Interessante. Modificherò i prossimi test. Modificherò i prossimi test. Modificherò i prossimi test. Cioè, mi farai il lavaggio del centro. Non capillare. Modificherò i prossimi test. 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 Grazie a tutti. 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 Buonissimo con i miei vecchi pantaloncini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chi siamo? Ehm... Grazie a tutti. Vediamo come va... Grazie a tutti. Aspetta... Ho premiamo... Tu... Ehm... Esperimento... Ehm... 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 È l'allarme... Il compleanno! Tanti auguri, soggetto! Spero ti piaccia la torta di buppa! Ho proibito a Embryo di andare in bagno finché non avrà perfezionato la ricetta! Patrone, per favore! Per favore! Patrone, per favore! Patrone, per favore! Patrone, per favore! La subordinazione è pericolosa! Ma dovremmo fare attenzione amico! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prego, non voglio più raschiare interiore di Bandicoot dal pavimento. Prego. 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 Ok, 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 ok. Oh, come on. Oh, come on. L'esperimento è iniziato. Parlami dei tuoi titoli. Madonna, l'area in dispositivi devianti. Aspetta. Embrio! Il microfono è acceso. Quel razzo che ha in testa l'esito di un esperimento fallito? Oh, come non è tutto. Oh, come on. Oh, come on. L'esperimento è riuscito. Altro giorno, altra prova. Questa cassa contiene una sorpresa. Questa cassa contiene una sorpresa. Questa cassa contiene una sorpresa. Questa cassa contiene un'esito. Questa cassa contiene una Spacefle. Il soggetto ha una chioma incredibilmente folta e lucida E che volume Embryo Voglio provare lo shampoo della nostra amica pelusa I miei follicoli stanno andando in manora I miei follicoli stanno andando in manora I miei follicoli stanno andando in manora Esperimento completato! Salve gatto! Oggi sarò io a condurre l'esperimento Per l'ultima volta! Non è un gatto! È un bandicoot! Bandicoot? Non assomiglia a un bandicoot! Bandicoot? Bandicoot? Assolutamente! Sì! Grazie a tutti. 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 Ti hanno aiutato? Ne facciamo un altro? Non è stato facile trovare abiti confacenti per Coco. Ma ho superato me stesso. Grazie a tutti. 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 E sono fissata con i videogiochi. Ok. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.